Ad Arezzo formazione continua e buona scuola. Sono infatti aperte le iscrizioni e nuovi 10 corsi per l'aggiornamento professionale degli insegnanti delle scuole di ogni ordine grado organizzati dal Dipartimento Universitario di Arezzo. Da quest'anno abbiamo attivato 10-11 corsi di formazione, sono destinati a tutti gli insegnanti del secondo grado e sono corsi che spaziano dalla formazione sui problemi relativi alla disabilità, ai disturbi specifici dell'apprendimento, anche nuove metodologie didattiche per insegnare ai nostri studenti della scuola che sono particolarmente attivi. Per fare dei buoni corsi siamo andati noi stessi a formarsi anche all'estero e sono venuti qui dei colleghi stranieri che ci hanno aiutato a diventare, speriamo, dei buoni formatori per gli insegnanti. Tutto questo nasce dalla buona scuola, questo decreto che suggerisce agli insegnanti di continuare ad aggiornarsi durante tutto l'arco della loro professione. Noi cerchiamo di offrire un buon servizio sia al territorio ma anche a livello nazionale perché poi questi sono corsi che vedono di solito la partecipazione anche di istituti fuori della regione toscana. Ci stiamo attestando su questo interessante nuovo campo di lavoro.